Ciao e oggi si mangia Ciao sei un grande Ciao e oggi si mangia Ciao sei un grande Ma? No ma scusate Ma hai sbagliato, se hai sbagliato dimmelo te li rimando Ciao e oggi si mangia Hai sbagliato, brother scrivimi Se hai sbagliato ti faccio il rimborso Posso fartelo subito Sei sbagliato ti faccio subito il rimborso Ti rimando subito Sei sbagliato, brother Mi hai appena donato 600 euro totali E mi sono entrati sulla carta Ciao e oggi si mangia Non mi sono sbagliato, brother Non li posso accettare, davvero No, davvero non li posso accettare 700 euro così non li posso accettare Cioè sono troppi soldi Dagli a qualcuno Non darli a me, veramente Dall'imbeneficenza, te lo giuro So che sembra una leccaculata Ma dall'imbeneficenza No, no, veramente Ciao e oggi si mangia Brother mi hai donato 1000 euro Brother mi scrivi, tanto io ho il tuo nome e cognome Mi scrivi su Instagram per favore No, non sto a scherzo, sono serio Adesso a parte gli scherzi No, basta No, no, veramente No, basta Per favore Non sto scherzando No, basta No, ho capito, brother Però allora veramente Cioè adesso sembra una leccaculata Lo so che ognuno spende i soldi come vuole Ma mandali veramente Di beneficenza Cosa devo fare? Non posso accettare 1500 euro ragazzi Non posso accettare 1500 euro Grazie per i beat cazzo Non posso accettare 1500 euro Brother vuoi entrare un attimo a fare un confronto? No, basta E oggi si mangia Basta No, voglio tenermi in anonimo l'importante che sai il mio nome No, devo fumare un Icos perché sto No, perché vi giuro non so Non so come Non so come comportarmi Non so cosa dovrei fare C'è qualche mio amico in chat che ha un consiglio? Chiamo Spappi in diretta? Grazie Lore Grazie Tare Ciao Chiamo Spappi in diretta Col viva voce Prima ti dico che sono in live Ciao Grazie Luca Grazie Bru Ciao Spapp Sei in live Sei in via voce Sto chiamando No, devo dirti una cosa importante Ti posso mettere in via voce? Non dici niente di... Grazie per i beat cazzo Eh No No No, 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 no Spapp Spapp No, non sei in live però Eh Ciao Ok Spero non si sia sentito Va bene Ti metto un attimo in via voce Adesso sei in via voce, ok? Ok Mi hanno donato 2000 euro in live Cosa dovrei fare? Ringraziare Vieni a non farlo mai più Eh, ma... Spero se puoi dargli l'indietro Sarebbe più corretto Ma il tipo mi ha detto che Che lui ha tipo È un imprenditore e non... E non... Nessuno butta via i soldi, sì Eh, ho capito Eh, magari lui ha voluto Che cazzo ne so Eh, va bene Perché lo chiedi a me, sì Vedi tutto Ma gestire È grande Miglia che spapp Va bene, dai Ci sentiamo Ok, ciao Ciao Non si è sentito Quello che ha detto Vero? Non si è sentito Quello che ha detto Al telefono? Perché ha sparato Una roba bannabile a caso Giusto per così Per dire Cioè, me l'ha messo La voce di spapp Era spapp Era spapp Ragazzi Ehm Penserò Penserò dopo Cosa A cosa fare Eh, parlerò col tipo Direttamente in privato E poi vi faccio Vi faccio sapere Che cosa Che cosa mi ha detto Che cosa Che cosa fare Che cosa Che cosa Che cosa Che cosa Che cosa